E il Tieti, la squadra più in forma del momento. Nel girone di ritorno i Neroverdi hanno totalizzato più punti della concorrenza. 24 contro i 23 di Pontedera e Salernitana e i 22 dell'Ottimo Teramo, che con 5 gare ancora da disputare ha già eguagliato il totale dei punti raccolti nell'intero girone d'andata. Un exploit, quello dei Teatini, che si contrappone all'autentica debacle dell'Aquila, che con 16 punti appena è perfino dietro a Campobasso, Interreggio e Melfi. Con il ritorno al successo di domenica proprio contro il Melfi, la Salernitana ha rimesso le cose in chiaro. Croce spaventa i campani, poi nella ripresa è Munar a piazzare la doppietta da tre punti. Sono 11 le lunghezze sulla terza della classe, il Chieti appunto. Al secondo posto, seppur reduce da tre pareggi consecutivi, tiene il Pontedera, che con l'Apriglia trova il vantaggio con Regoli, l'uno a uno e di Corsi e Pontini, che sono quarti in solitudine. Grazie a Coletti, Ferrani e al rientrante Bucchi, il Teramo sbanca la mezzia e si proietta a meno due dalla coppia L'Aquila-Poggi-Bonzi. I Toscani fanno una faticaccia ad espugnare il campo del derelitto e retrocesso da tempo a Versa. A proposito, i campani nel ritorno finora non hanno ancora totalizzato alcun punto. È record negativo. In chiave play-out è Bagarre. Dai 34 punti di Campobasso e Vigor Lamezia, ai 39 del Martina Franca, nessuna può dormire sonni tranquilli. I Molisani, 0-0 col Borgo Abugiano, hanno infilato il settimo risultato utile filato. Prosegue il momento di difficoltà del Gavorrano, che non va oltre il 2-2 interno con il Martina Franca. Il passo in avanti determinante è del Foligno, che si è imposto di misura a Reggio Calabria.